Io ne penso che De Rossi è andato al Boca Juniors, niente, penso solo che è andato in una bella squadra, quindi niente, non devo dire niente. De Rossi è andato al Boca Juniors e spero che lì possa giocare per almeno un anno e si diverta, perché quello mi piace il campionato del Boca Juniors, soprattutto i tifosi. Quindi è una notizia clamorosissima, comunque niente, che devo dire? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale, forza Napoli! Non devo dire niente, devo dire solo che il Boca Juniors come squadra mi sta piacendo, soprattutto mi sono visto un paio di partite, soprattutto la più bella, Boca Juniors, River Plate 2-2, veramente mi è piaciuto come il Boca Juniors gioca, quindi io penso che De Rossi abbia scelto bene la squadra, perché veramente io, Verdoliva, mi immagino che mi chiami il Boca Juniors quando sarò grande, sempre se giocherò a pallone, e mi diranno, vuoi giocare nel Boca Juniors? Sì! Perché? Perché ci avete dei tifosi che un altro poco fate crollare lo stadio. Comunque, mettete un like al video e iscrivetevi al canale, forza Napoli, ciao!